Abbiamo adesso con noi Riccardo Petricca che ha pubblicato Pastorale Digitale 2.0 con il gruppo Albatross Elpino. Buonasera. Buonasera. Allora io partirei direttamente dal titolo perché è un titolo particolare che inquadra un po' la tua opera. Sì, Pastorale Digitale 2.0 non è semplicemente un libro ma qualcosa di molto di più. Come ha detto qualcuno anche durante la presentazione, la prima presentazione del libro è un sogno, un sogno di Dio e dell'uomo. Pastorale Digitale 2.0 è un sogno che si è trasformato in un progetto. Questo progetto poi è diventato realtà, una realtà fatta di oltre 100 ragazzi di diversa età più o meno giovani che ogni giorno si impegnano in maniera costante per dare un volto digitale e per trasmettere, comunicare, gioia, fede, speranza, amore, quello che è il volto vero di Cristo e della Chiesa. Quindi è proprio un progetto che parte da un cammino di fede però fatto in maniera moderna, in chiave moderna perché c'è proprio la digitalizzazione in qualche modo. Sì, Pastorale Digitale, come dice anche il titolo stesso, cerca di coniugare insieme il mondo della fede spirituale con quello delle nuove tecnologie, con il nuovo modo di comunicare tramite gli strumenti web 2.0, internet e in particolare anche i social. Com'è la risposta appunto dei giovani a questo progetto che portate avanti? Come anche detto dalla professoressa Adriana Letta che ha curato la prefazione del libro e anche lei è diventata, è stata travolta da questo nuovo progetto, ha preso il via ed ha spiccato il volo e ha raggiunto traguardi, mete che veramente all'inizio nessuno si aspettava. All'interno del tuo libro è presente la figura del Vesco, comunque il suo contributo. Il Vescovo Gerardo, il Vescovo della mia diocesi di Sora Cassino, Aquino e Ponte Corvo, è stato colui che con coraggio, intuizione, ha dato anche un volto digitale alla Chiesa, in particolare alla diocesi. Lui come guida, padre e pastore, ogni giorno veramente ci indica la strada da percorrere e ci guida con quell'affetto paterno, dandoci appunto qual è l'unica e la vera meta da perseguire. È un po' da ritenere una diocesi all'avanguardia rispetto un po' a quello che è il metodo tradizionale di pastorale, insomma? Sì, sono un po' orgoglioso di questo perché anche un po' i numeri lo dicono, perché la nostra diocese è quella che ha il profilo Facebook con il maggior numero di like, di mi piace rispetto a tante altre diocesi molto più grandi, quali Milano o quant'altro. Però questo è un cammino iniziale, forse noi siamo stati tra i pionieri, ci sono anche altre diocesi, ma noi siamo stati tra i pionieri, ma adesso pian piano anche le altre diocesi, le altre realtà pastorali, pian piano ci stanno seguendo e stanno vedendo che questo è uno dei cammini da percorrere. Quindi il tuo testo mostra come la tecnologia, se alla fine è positiva in un certo senso, non abbia soltanto lati negativi, ma possa essere utilizzata anche per descrivere appunto l'amore, quello che diffonde l'amore, che è quello poi l'amore di Dio, o comunque l'amore religioso? Assolutamente sì, infatti coniuga le nuove tecnologie con la fede, ma in particolare il termine, l'ultimo capitolo del libro proprio lo dice, è quello che dobbiamo imparare oltre anche ad educare, quindi all'utilizzo di questi nuovi media. All'interno del testo, qual è la tua parte più importante, nel senso il tuo contributo rispetto all'esperienza che descrivi, quindi quella più personale, e quale invece il contributo che descrivi degli altri persone, degli altri componenti, insomma, con i quali ti sei rapportato? Il personale digitale 2.0 parla di me in prima persona, una voce di solista iniziale, che poi diventa una voce di un gruppo, persone, volti che si intrecciano, fino a diventare storia, storia di una chiesa, una chiesa che si racconta utilizzando proprio le parole del nostro Vescovo. Grazie a Riccardo Petricca, che ci ha presentato Pastorale Digitale 2.0, edito dal gruppo Alcatrazio di Filo. Grazie a voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.